Piove Però almeno partiamo 7 e 20 Alla fine siamo arrivati Ci abbiamo messo Sono le 12 Era alle 7 e mezza Ma va bene Non te l'ho mai chiesto Non li hai portati Mi scappo tantissimo Possiamo vedere Un uccello nero Grosso e un altro senza testa Che scappa Che scappa tantissimo Tutti quanti E io? Non sono nessuno Non sono nessuno Ciao Tsuyu Ed ora assistiamo al make up Di un uomo Non ti permette Dai su Ma dai su cosa fallo te Falla lui Interrompiamo il programma Per presentarvi il cringe Il puro cringe Avete mai provato a chiedere a qualcuno Se conosce il vostro canale youtube? Bene Non fatelo mai E' una cosa molto imbarazzante Non lo conosco E' vero Non so chiudi Posso anche uccidere Sì 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 E che video porta? Ma lo conosco di fama e basta Ah è giusto Mi dispiace Sì Chi è? Benissimo, tu conosci Anime Souls? Dovrei Va bene Stai parlando con me? Si Tu conosci Anime Souls? Certo, ci sto parlando Questa è una grande risposta Tu conosci Anime Souls? No, si Tu conosci Anime Souls? Certo Brava No No In diretto Voi conoscete Anime Souls? Aveva scoperto E questo va molto male Come canale? Si 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 Attenzione Si Si Sono io Si Quanto zoom, ho sbagliato Va bene, grazie Mi sono circondato da personaggi di Mayra Academy Però basta eh Non puoi essere il protagonista del video Appari più tu che io Si Tozzazzone Cosa vorresti dire? Lo sai benissimo Registri? Si Si Sto registrando E comunque ho trovato uno di voi Mi ha fermato E' stato bellissimo E' una sensazione Salve persone Non parlare Domani bisogna vedere cosa fare Domani c'è tutta la giornata C'è anche la terpiuma di Mayra Academy Chissà se ci faccio un video a parte Ci vediamo No No perché non è normale Ascoltami E' normale Tu devi cercare Mi dispiace tantissimo Mi dispiace tantissimo Cancella Naturale Noi Noi Si uomo Si uomo Non esiste Ma Te stai Non stai facendo mai niente Trapone incredibile Con la barba poi Sei bellissima Questa situazione verrà tagliata tantissimo Un'ora dopo ce la fai Sto piacendo di gioia Dai dopo un po' Fermo Fermo Cacciandomi Un po' che hai un figlio Buongiorno Sono le 10 Abbiamo dormito abbastanza Poi ci hanno cacciato dall'hotel Perché siamo stati fino all'una e mezza Ecco E adesso è tipo apparsi il filmato di noi che battiamo i tamburi in quel gioco giapponese incredibile Ci siamo bagnati tantissimo E siamo saliti sul palco e non perché mi volevano sul palco E poi ci hanno sfrattato E poi ci hanno cacciato malissimo Vabbè quella è un'altra storia Questa tecnologia vi arruvino Guarda 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 il mio Guarda Guarda Claudio E' Pentil Claudio Ma che arena è questo qua? Sta con me Sta con te Bocchi Ma che arena è questo qua? Pinesi metterà con la viola